Sono tre i feriti, una coppia di fidanzati, un ragazzo di 30 anni, dell'incidente stradale che si è verificato domenica sulla strada provinciale 15, che collega Grotte con Racalmuto all'altezza di una nota attività artigianale. Protagoniste, per causa ancora da verificare, una Seat Leon sulla quale si trovavano i fidanzati e la Fiat Grande Punto guidata dal trentenne. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco di Canicattì e i sanitari del 118, che hanno trasferito i feriti all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì e al Sant'Elia di Caltanissetta. La strada provinciale è rimasta chiusa al transito per molte ore. Alla guida della Seat Leon, un ragazzo di 29 anni disoccupato, con lui una 22enne ucraina, residente a Marianopoli, in provincia di Caltanissetta. La coppia è stata portata all'ospedale di Canicattì, mentre al Sant'Elia di Caltanissetta è finito il conducente della Fiat Grande Punto, l'uomo trentenne di Racalmuto. nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita.